Uomini e donne, Giulia D'Urso ritrova l'amore, la dolcissima dedica pubblicata sui social. Giulia D'Urso, ex corteggiatrice di Uomini e Donne, ha ritrovato l'amore. Dopo la turbulenta storia d'amore con l'extronista Giulio Raselli, terminata nel settembre del 2021. L'influencer non ha più condiviso sui sociali dettagli della sua vita sentimentale. Tuttavia, vari esperti di gossip le hanno affibbiato diverse frequentazioni. Dal presunto flirt con il tiktoker Antonio Midugno, ex concorrente del grande fratello VIP6 a quello con Martin Vettori, atleta italiano 28enne che combatte per la federazione statunitense UFC nella categoria dei pesi medi. Giulia fu infatti avvistata in compagnia di quest'ultimo a Los Angeles, dove la pugliese stava trascorrendo le vacanze lo scorso maggio. Tuttavia, la presunta frequentazione non è mai stata confermata dai diretti interessati. A quanto pare, però, a Los Angeles la d'Urso avrebbe davvero trovato l'amore non con Vettori. Stando a quanto rivelato dall'influencer su Instagram, la nuova fiamma sarebbe Francesco D'Acunzo. Vice presidente e senior sales consultant presso la Tiro. Il 32enne risiederebbe proprio a Los Angeles, dove frequenterebbe la americana Chiedemio of Dramatic Arts, a rivelare l'identità di quello che da tempo era un ragazzo misterioso è stata Giulia. Quando poche ore fa ha pubblicato un rail contenente le immagini di alcuni momenti trascorsi insieme al nuovo amore. La didascalia apposta al video non ha lasciato spazio a dubbi sulla natura del rapporto. L'ex volto di uomini e donne ha scritto poche parole, ma significative, in una dolce dedica a Francesco. Da quanto duri la loro frequentazione è ancora un mistero, Giulia, infatti, non ha mai pubblicato alcuna foto in compagnia del suo nuovo fidanzato prima dell'ultimo video. Grazie a tutti! Grazie a tutti